Salve a tutti ragazzi e bentornati in BitTripRunner e ovviamente non so se avete notato in questi giorni Ho fatto un pochettino di video in meno ma non ha perché non mi andava ma perché sto cercando di organizzarmi Organizziamo per fare delle serie nuove e soprattutto in buona compagnia e vedete anche che non vi spoilerò niente Quindi preparatevi perché in questi tempi ci sarà un po' di cambiamento io intanto come vi ricorderete questo gioco è un rage quit Un rage quit che vi fa diventare matti perché ci sono 3.000 pulsanti da premere Io manco mi ricordo più, scivola E questo? Che cos'è? Don calcio? Ma che figo raga Don calcio, yaaa, panzai, salta E no, comunque faccio quello Un gioco al calcio Left, ok, salta, scivola Vabbè ragazzi, scivola più Bam, bam Salta Yeee Ben calcio, calcio al dente Yeee, yeee, yeee Calcione Yeee Si Mio Antadà Oh si Oddio, no No, 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 cacchio Via Non c'è Non c'è a me, non c'è a me Kik, 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 kik Dai che non caccio volante, faccio così E poi questo è a tempo, nel senso non è che rimane a vita come qui Come un scivolo Oddio, clicca a tempo giusto Yeee Oh, si, io, salta, salta, salta Ah, vi volevo chiedere anche un'altra cosa, già che ci sono Eee Ho voglia di comprarmi qualche gioco bello Che vi piacerebbe vedere, ovviamente Perché io Non saprei, oltre Minecraft e oltre questi giochi di Geekwit Che io non amo Però li faccio perché li amo Cioè, non li amo, ma li amo Che non so cosa sto dicendo Mi piacerebbe giocare anche a qualche altro gioco Qualcosa che anche a voi interessi E diciamo che io amo tantissimo Tutti tipo di giochi Basta che non siano noiosi Ma ti facciano divertire Apre una bella storia Nooo, li devo ammassarmi Eee, quindi Ma, mamma, non c'è l'Egewit Perché faccio sti giochi Eee, mi raccomando Cioè, datemi qualche bel consiglio Un commento Oppure anche direttamente il link Ovviamente lo comprerò da Steam Quindi, saprete Ragazzi, io ve lo dico con tutto il cuore Non mi dite che Ah, vabbè Spendi 100 euro E comprati Che ne so Non so se un gioco da 100 euro esista Però Non lo comprerò io Ok? Quindi, mi raccomando Un gioco Un decina d'euro Così Ah Perché gli salto in faccia Vaffan cuore Eee Ma, vediamo 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 Il più votato Ovviamente Non so Scegliete qualcosa Di Vi posso dire Che il mio computer Regge Tranquillamente Code Quindi Parlo di un portatile Quindi Vedete voi Decidete voi Io mi fido Mi fido di voi E lo compro Dicendo Ok Compro quello Perché me l'hanno detto Quindi mi raccomando Ditevelo In i commenti Qui Ok Adesso De un basame Mio Sì 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 S'è arrivato Dai Salta 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 Calcio Calcio Salto Calcio Salto S'è arrivato S'è arrivato S'è arrivato No Scendi Calcio Sì Sono proprio forte Challenge Complete Bonus Ok Quello che ho cantato Era Oddio Era Fa la fantasy Quando vincevi Sì Sì Salta No Sono un coglione Sì ragazzi Sono un coglione Va bene Challenger Copid Ragazzi Io Finisco qui Perché ovviamente Lo faccio corto Perché se Clicco avanti Mi ricordo che Andavo al prossimo livello E non lo voglio fare Per vari motivi Perché ovviamente Voglio che sia un video veloce E È un po' così Anche per parlare E mi raccomando Lasciate un commento Un mi piace O comunque Vedete quello che Lascia Lasciatelo Non è problema Fatemi capire che ci siete E mi raccomando Lasciatemi quel commento Del gioco Cosa compro Perché La mia libreria Non è tanto grande Però Anche se è condivisa Con Peppe Tutti Con la grazia Peppe Che me la condivisa Però vorrei Comprare qualche gioco Carino E Mi raccomando Ragazzi Vi prego Prendete un italiano Io lo capisco L'inglese Ma non mi va Di tradurre tutto Cioè ci metterei No vita Quindi Io vi saluto Grazie ancora a tutti E Ciao a tutti Alla prossima Ciao a tutti